Ciao ragazzi, ciao a tutti! Sono Ian e benvenuti sul primo episodio di questo nuovo gioco che ho intenzione di portare sul canale, che si chiama The Long Dark. È un gioco piuttosto vecchiotto, però io l'ho scoperto solo qualche giorno fa guardando i saldi di Steam, era praticamente alla metà, ho visto Survival, ho guardato un attimo il trailer e l'ho comprato immediatamente, perché ragazzi io sono un grande fan dei giochi Survival. Come sapete, questo qua è ancora in alfa, quindi è ad accesso anticipato, infatti la modalità storia non è ancora presente, c'è solamente la modalità sandbox, che sarebbe insomma la modalità single player in cui ti spawnano in un punto e non hai obiettivi prestabiliti. E poi ci sono le challenge che ancora non ho avuto modo di vedere, ma penso che siano cose abbastanza avanzate. Allora ragazzi, questo qua è un gioco molto... c'è un lupo che mi ulula mentre faccio l'aiuto. È un gioco molto molto complesso e molto 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 articolato. Non è il classico Survival alla Minecraft, per esempio, che dai due pugni a una roccia e ti fai un piccone, no. Questo è un Survival proprio tosto, perché... Allora, l'ambientazione è, a quanto ho capito, il Canada in un mondo devastato da una catastrofe geomagnetica, quindi una catastrofe naturale molto molto grande, che ha buttato il mondo in questo stato di totale gelo, a quanto ho capito. Quindi non ci saranno zombie, non ci saranno mostri, ci saranno solamente io e la natura, ovvero lupi, orsi, cervi e non so quali siano le altre faune del Canada, però penso anche altri vari tipi di animali. Quindi è un gioco davvero 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 bello, però che diciamo che per chi non è appassionato di questi giochi un po' lenti, perché sì, sarà un po' lento, non so neanche quanti tagli farò, penso pochi, perché è un gioco che va goduto, che va proprio assaporato. Bisogna metterci proprio dentro, non so come spiegarlo bene, ma bisogna viverlo, bisogna viverlo. Tutto in questo gioco è come se fosse la vita reale, io ho fatto una prova facendo tipo 5 minuti di sandbox per vedere anche le impostazioni video, audio e tutto quanto, e ho visto che ogni azione consuma calorie, proprio come nella vita vera. Ogni azione consuma calorie, ovviamente, può raccogliere praticamente di tutto, ci sono un sacco di cose da craftare, veramente un sacco di roba, però io direi di bando alle ciance iniziare col sandbox. Allora, ci sono varie difficoltà, c'è la difficoltà pellegrino, no, pilgrino, non so cosa si chiama, volpino, poi c'è viaggiatore, che adesso penso sia più pellegrino, un aquilotto, poi c'è stalker lupo, e quella che non farò mai. Allora, io direi che visto che non sono per niente esperto in questo gioco, cioè non so una cippa, non so veramente una cippa, io direi di mettere la difficoltà intermedio, ovvero viaggiatore. Allora, ci sono molte location, ci sono molte, molte location, qua ancora non c'è capo, stiamo all'inizio. C'è Lago Misterioso, poi Costa Lightway, Desolation Point, Pleasant Valley, Timberworth Mountain, Forlo Muskegon, cose che ancora neanche posso tradurre sinceramente, perché saranno nomi del luogo, quindi io direi che voglio iniziare da random, perché non voglio, non voglio iniziare da un punto prestabilito, visto che ci sono molti luoghi, facciamo random. Allora, questo gioco purtroppo è totalmente in inglese, ho attivato i sottotitoli, però è totalmente in inglese, cioè le opzioni delle lingue fanno ridere, perché c'è persino lo sua il, ma non c'è l'italiano, eh, siamo sempre l'ultima rotta del carro. Allora, io direi che mi faccio stavolta un bel maschio, ve lo chiamo come me, questa volta, guarda, scolta, voglio chiamarlo Ian, questa volta interpretiamo noi stessi, non la signorina. Una misteriosa tempesta geometrica ha portato il pianeta in una condizione di inverno, no, sì, in un inverno tremendo nel selvaggio Kanda, no, più o meno questo è quello che dice. Quanto potrei sopravvivere? Allora, ora voglio vedere dove mi spuona, perché abbiamo spuonato in mezzo alle montagne, nella neve, totalmente a nulla, stavo anche già crepando. Magari adesso mi spuona da qualche parte. Sinceramente io non ho idea di bene quali sia lo scopo di questo gioco. Penso sia sopravvivere, penso sia sopravvivere. Allora, penso che già sono nella merda, perché sono spuonato, non ho idea dove, ed è notte, ed è notte. Allora, se non sbaglio, allora, questo è tutto ciò che ho nell'inventario. Io spero che, che aprendo l'inventario... Oh mio Dio, ma che cazzo faccia ciò? Io spero che aprendo l'inventario, non... cioè, il gioco mi fate in pausa, ma non credo, perché sta continuando a fare le nuvolette. Allora, nell'inventario abbiamo fiammiferi. No, che cazzo dico? No, tipo... Come si dice? Quel coso per accendere il fuoco. L'alco, cioè, chiammolo così. C'ho sei antibiotici, antisettici, che sinceramente non so cosa siano. Ah, antisettici per pulire i feriti, tipo il mercurio cromo. Due bende, un sacco a pelo, un pezzo di cedro, che immagino sia per fare il fuoco. Poi c'ho un flare, che sarebbero quei bastoncini che fanno luce. Oddio, cos'è sta roba? Quei bastoncini che fanno luce. Mi sa che a me io mi devo muovere. Mi devo muovere, non devo perdere tempo a... Non devo perdere tempo a guardare l'inventario, perché... Vedete queste barre qua? Allora, chilled, rested, stalked, full. Allora, chilled vuol dire che mi sto congelando. Infatti, vedete che... Quanto sto ansimando? Ecco. Ho fatto due passi e sto già praticamente ansimando. Cos'è sto posto? Cioè, mi ha sponato proprio nel mezzo del nulla. Di notte, poi. Ragazzi, io sto congelando. Cioè, ci sono meno 23 gradi. Ho 1945 calorie ancora, quindi... Diciamo che sono appena nato. Ho una macchina! Ho le calorie di... Io ho una persona che è normale, che dovrebbe avere durante il giorno, ovvero 2000. Posso farci qualcosa qua, ad ora? Oddio, sono tratto in macchina. E che fu? Candy bar. Oh, ma... Ok, ho trovato una barretta di cioccolato. Cioccolato e noci. Perfetto. Mangia, prendi... No, io direi che le prendo. Non so dove sia la fame. Ok, ora sento 9 gradi perché ovviamente sono in macchina, però... Però so freddissimo. Aspetta un attimo, com'è che era? Allora, questo sono... Ma io non... Ma perché sono così? Ma che cazzo c'ho in faccia? Ma sono un pupazzo di neve, totalmente bianco. Allora, addosso sono... Sembra che sia... Sono parecchio coperto. Ho la protezione del 6%, che non so cosa sia. E questo roba penso sia protezione dal vento, perché vedo dei robi... Tipo soffio. Ok, io sono in questa macchina, ma penso che non posso... Radio. Un coniglietto! Eh, ma ancora non posso... Glovebox? Cos'è? Ah, il cruscotto. Ok, ho trovato dei guanti. Dei guanti però da guidatore, quelli con... Uh! Un'altra parete di cioccolato, però mi sta a stantia. Però ho trovato dei guanti da... Da pilota. Cioè, credo che io li abbia già i guanti normali, giusto? Fammi vedere un po'. No, non ho i guanti, quindi direi che posso... Posso metterli, no? Posso metterli. Actions? Come si fa? No. Come si fa a metterli, sti robi? Ah, forse sono rotti? Ah, cazzo, non posso mettere. Perché non posso metterli? Sono 41% di non so che roba. Ah, ok, sono da riparare. Harvest. Non lo so. Sarebbe raccogliere, non lo so. Ah, ok, sono da riparare. Quindi sono rotti e non posso neanche metterli. Perfetto. Ah, io... Non credo... Di dover stare qua dentro. Ok, sono... Cioè, sono protetto, però... Però no, cioè... Però decisamente no, non posso stare in questa macchina. È già tanto che ho trovato qualcosa. Vediamo un po' cosa c'è nel bagagliaio. Ok, un'altra barata di cioccolato. E direi basta. Devo continuare a cercare... Devo trovare tipo una baracca. Devo trovare tipo una baracca. Però io non so letteralmente dove cazzo sto andando. Io seguo la strada principale. Speriamo che corre e non mi... Non mi ammazzi la stamina. Allora, quella mi sembra una... Una baracca. Quello è un cervo, sì. E io sto letteralmente congelando. Numb. Oddio, cosa vuol dire Numb? Numb non era tipo A. No, no, agile e nimble. Non lo so cosa vuol dire Numb, ma penso sia... Penso che sia... Sto arrendendo in ipotermia. La trascopri... Eh, esatto. Sono a rischio di ipotermia. Allora, io sono... Non so cosa sia questo. Penso sia un lago ghiacciato. Immagino sia un lago ghiacciato. Scusi, signor cervo. Eh, quanto vorrei... Quanto vorrei prenderlo e cucinarmelo. Che strano questo posto. Sembrava un lago. Mare no, perché in Canada il mare non dovrebbe esserci. Spero di non dire stranzato. Va con... Oh, si è già notato il cervo. Oh, li... Allora, ok, li vedo caseggiati. Allora. Prima di tutto. Prima di tutto. Entriamo... Entriamo qua dentro. Corri, corri, corri. Questo penso sia un lago, comunque. Anche se... Boh, una barracca in mezzo. Una barracca in mezzo a un lago mi sembra un po' strano. Vediamo un po' cosa troviamo dentro. Allora. Cassetti. Sì, intanto mi sto congelando. Ok, un pezzo di vestito. E nient'altro. Qua sotto. Ogni volta per cercare... Vedete quanto è realistico. Per cercare ogni volta ci mette un po' di tempo. Cioè non lo fa immediato. Cupboard. Cos'è? Una cassaforte. Dai, una cassaforte dovrebbe essere cosa interessante, no? Niente! Vuoto! Cos'è? Oh, un amo! Quindi si può anche pescare. Perfetto, io prendo tutto. Guarda che buio. Ah! Ice Fishing Goal! Oh, interessante. Si può pescare nel ghiaccio figata. Pot belly store. Qua immagino si possa cucinare. Qua potrei già inserirci... Ok, cedro, pezzo di cedro. Per immagino accendere il fuoco. Potrei stare in questa piccola baracchetta, però... Non ha la porta, quindi sto crepando di freddo. E visto che io ho notato in lontananza quella specie di baita... Quelle tre baita sono tre... Io direi che ci vado di corsa e di corsa. Mi scusi se non c'era una nuova intenzione di fare del male. Almeno per ora, perché non ho un fucile. Ma appena avrò qualcosa... Non si preoccupi, mi farò un bello stufato di cervo. Io spero anche di non trovare lupacci. Lupacci cattivi. Cos'è sto rumoraccio? Ah, ok, è il cervo che cammina sul... Che zampetta sul ghiaccio. Saltare non si può saltare. Questo è l'inventario. Che, vabbè, ancora... No, è l'inventario, non so, la barra tipo rapida. Che ancora non ho avuto modo di vedere. Se non si può saltare io non credo di poter scavolcare sto pezzo, giusto? Spero che qua ci sia... Un'apertura. Ok, perfetto. Allora, questo è un lago per forza. Era un lago perché c'è un molo, quindi... È un lago per forza di cose. Ci sono un sacco di baracche. New location di scuola. Fishing camp. Allora, ok, sono in un... In un... Madonna, io sento rumori. Sono in un... Un pallet, in un villaggio di pescatori. Amo, ovviamente. Corda, ok. Workbench. Questo immagino che si... Ok, potrò... Vai là. Lag. Ah, no, ok, niente. Qua immagino che potrò craftarci cose, però ancora... Mountain rope. Ok, una corda per scalare le montagne. Immagino che mi servirà molto più avanti. Uuuuh! E già... E già li siamo a ragionare, però io mi sto congelando, quindi... Fammi entrare nella casetta, se può? Ok. Ok. Per sì, ma non si vede una ceppa. Non si vede niente. Però almeno qua sento solo meno un grado. Allora, io dovrei avere dei fiammiferi. Dovrei avere... Snow shelter. Cosa vuol dire? Drop the coi. Alcune cose non riesco a tagliare, ragazzi. Non sono, purtroppo. Allora, allora, allora. Io dovrei avere qualche tipo di cosa per farmi luce. Se no, guardate. Allora. Faccio direttamente così. Campfire. Mi crafto un fuoco. Non si può? Cannot start can find indoors. Ah, non posso farlo dentro casa. Io non vedo... Allora, non vedo veramente niente. Cortain, cosa minchia è? Ah, Cortain penso che sia il vetro. Eh, sì. Lo distruggo così in congelo. Porca Eva, non vedo veramente niente. Ma non si può fare qualcosa? Non ho una lucina. Ah, c'ho il flare. Allora. Equip. Mi dispiace usarla in casa, ma non vedo davvero un ca... Oh, oh. Ok, perfetto. Posso lanciarlo? Non posso lanciarlo. Allora, vediamo un po'. È proprio una baita, una piccola baita. Io però ho paura... Che... Ok, almeno ora sento due gradi. Io ho paura che se lascio sto robo... Che se lascio sto robo mi va via il flare. Allora, se non sbaglio posso dormire e... Allora, altre cinque ore di buio. Quindi io se dormo cinque ore... Se dormo cinque ore... Allora, consumo 338 calorie... E prendo un bonus di calore di sei gradi. Quindi dovrei dormire tipo con otto gradi. Che insomma è male, però... Almeno... Almeno... Io dormo. Almeno mi... No, si è spento il flare. L'ho acceso anche per niente. Almeno mi sveglio con la luce, spero. Perché mi sono svegliato prima? Uè, non vale. E io ridormo. Ah, non sono abbastanza stanco. Ah, ok. Questa non ci voleva. È ancora buio pesto. E sto robo si è... Si è rovinato. Beh, intanto mi occupaggio... Ma porca troia... È spaccato pure questo. Oh, madonna che palle. Ero già felice di aver trovato... Ma non ho dei fiammiferi? Ero già felice di... Ma io ce li ho i fiammiferi! Questi sono fiammiferi? Oh! Comunque la grafica di sto gioco è veramente, veramente tanto carina. Perché... È... Non dico cartunesca, ma... Ma quasi. Cioè, è molto, molto carina. Io però... Ah, ok. Posso passare il tempo tipo giocando. Ok, allora passiamo due ore giocando. Mamma mia come scendono le caratteristiche. Oh, oh. Ok, ok. Ok, basta, 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 basta. Oh, cazzo, potevo fare così dall'inizio? Allora... Uh, felice... Ok, il kit di pronto soccorso. Barretta energetica. Mi sa che tra poco devo iniziare a mangiare, eh. Pain kills, ok, anti-besi, anti-dolorifici. E direi basta così. Beh, direi che è sufficiente. Shelf. Ah, ok, è per distruggere. No, non mi serve. Plastic containers. Cosa c'è? Le melanzane sott'olio dentro? No, non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Uh, work boots. Degli scarponi da lavoro, che forse sono meglio di quelli che ho io? Fammi vedere. Io non... Io ho... Eh, beh, direi ho le scarpe da ginnastica. Aspetta. Fammi accedere all'inventario. No. Allora. Spero che non siano rotti. No, sono sempre rotti. Cioè, è tutto rotto. Mi serve della pelle per... Parca tra. Mi serve della pelle per ripararli. E purtroppo non ce l'ho. Come che si abbassa? Ok, così. Tomato soup. Una zuppa di... Di tomato. Di... Ok, gas. Eh, sì, gas. Tipo, vabbè. L'alcol per accendere il fuoco. Oh, madonna. Come è brutto. Come è brutto abbassarsi. Come è brutto abbassarsi. Sennò no, rimettiti su come si è facendo il mal di mare. Una sedia, qua è sempre per spaccarla. Il letto. Ok, qua pare che non c'è... Ma tutto che scricchiola poi. Qua pare che non c'è nient'altro. Vediamo un po' nelle altre casucce. Ora che almeno è giorno... Riesco a... Più o meno a vedere quello che c'è. Oh, ok. Di giorno è proprio tutta un'altra cosa, eh. Di giorno è decisamente tutta un'altra cosa. Ma che... Ma è veramente bella la grafica, comunque. Barche? Delle barche non le faccio niente. Ci sono... Ci sono meno 30 gra... Mamma mia. Ficcati dentro. Spero questo non l'ho controllato. La facciamo per ordine. Iniziamo da... Iniziamo da questa qua. Iniziamo da questa qua. Che... Prima non l'avevo potuto vedere perché era buio o pesto. Ok. Allora. Contratitore metallico. Vuoto. Giustamente. Tavolo. Non me ne faccio niente. Contratitore di plastica. Uuuh. Soda. Un'opatrato l'aranciata. A proposito di aranciata e ballevare. Io sto morendo di fame e di sete, quindi. Allora. Iniziamo a mangiare tomato soup. Che mi dà 300 calorie. Però è fredda. Mi sa che mi congelo le chiappe. Vabbè, io la mangio. Ah, devo aprirla con il coltello. Ok. Ah, ecco cosa mi servirà il coltello. Perfetto. Che culo. Ok, me la sono mangiata. Posso mangiare ancora? Ho preso 300 calorie. No, no, no. Scherzavo. 300 calorie e mi sono un po' fullato la fame. Ora, per fullarsi la sete, mi devo bere orange soda. Ok. Eeeh. 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 Quante calorie. Perfetto. Però, se mi mangio una barretta? 500 calorie. Sti cazzi. Ops. No, troppe calorie. È divento grasso adesso. Ok. Uuh, armadietti. Eeeh. Un cazzo. Altro armadietto? Un cazzo. Perfetto. Ho 11 fiammiferi che io però non vorrei usare. Ueh, ma lì qua c'è un'altra soda. Prendi, 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 prendi. Anzi, mi fullo direttamente tutta la sete. Io non so cosa sia questa stellina che è un suo 34%. Cioè, non ho la popolare di idea. 28%. Boh, non lo so. Cioè, proprio hanno un'idea di cosa possono essere queste cose. No, non voglio... Come si fa a tirar via... A disequipaggiare i fiammiferi? Cioè, non voglio tenermeli in mano. Un'equip. Ok. Ok. Allora, penso che questa casupola non ci sia letteralmente più niente. Ma se io vorrei si distruggere qua? Non posso, perché mi serve un'accetta. Ok, ok. Qua non c'è più niente. Fammi vedere se posso craftare qualcosa. Giusto così, per curiosità. Cos'è? Ah, no, ok. Pellets, sentite. Fammi vedere se posso craftarmi qualcosa. Old man's beard wound dressing. Ok, mi serve... La barba di un vecchio. Perché? E una torcia. Per la torcia mi serve lamp oil. E un pezzo di legno. Snare. Snare non so cosa si... Ah, ok. Una trappola per catturare piccoli giochi. Small game. What the fuck? E un ammo. Beh, l'amo già ce l'ho. Una corda. Ok, posso... Posso farmi un ammo da pesca, anche se... Penso che non posso farci niente senza la canna. Però io lo faccio. Ok, però sto crepando di freddo. E' tutto pieno di cose che... Non posso fare ancora. Cioè, non ho... Non ho proprio la roba. Quindi tu sei ancora troppo avanzato al momento per me. No. No, dai, mi sono incastrato. Ma dai! Ma dai! E non posso saltare! Oh, madonna, meno male. Mi ero incastrato nelle... Nelle boe qua. Animalacci cattivi, sembra che non ce ne siano. Ma se io vado di qua... Sì, lo so che sto ancora congelando. Però basta che vado in casa... E non dovrei congelarmi più. No, qua... Dubito che c'è qualcosa. Allora, fammi... Fammi di nuovo entrare in casa, eh. Mi facci... Mi facci di nuovo entrare in casa. Che devo frugare tutto quello che posso. Uh, quanti cassetti! Dai a me! Che Dio is this? Una maglietta, però no. Sicuramente sarà rotta. Primo. Primo. Sicuramente sarà rotta. E per secondo... Comunque ha begli effetti. E per secondo... Cioè, ho già un maglione che faccio. Forse posso... Forse posso mettermela sotto. Vuoto. Vuoto. Tutto tutto vuoto. New location discover. Pezzi di... Di legno da spaccare. Uh, barretta energetica. Prendi dai a me. Che... Ho visto che mi danno un sacco di calorie. Uno zainetto. Ora lo prendiamo, eh. Uh! Sardine! Sardine sott'olio. Sott'olto scatola. Nella realtà non mi piacerebbero. Però se stessi morendo ovviamente butterei giù qualunque cosa. Backpack. Non posso prendermelo. Ok. Altro combustibile. Stealth beef jerky. Uh! Carne... Carne siccata. Benissimo. Ok. Mi va bene. Ah, peccato che non posso mettermelo in spalla. Perché mi sa che già ce l'ho, eh. Eh sì, già ce l'ho. Vabbè, un altro. Cosa c'è qua dentro? Non c'è nulla. Un letto... Lo penso di aver frugato... Penso di aver frugato appertutto. Ah, sto congelando, porca Eva. Entriamo qua. Uh! Questa è la casa del capitano, eh. C'ha più cose. C'ha molte più cose. C'ha molte più cose. Ok. Legno. Un libro. Eventualmente, la soft knowledge. For now, qualcosa di buono. Ok. Roba da bruciare. Giustamente. Giustamente roba da bruciare. Un calzettoni. 27... Io non so cosa sia questo 27%. Forse è la condizione in cui attualmente è. Credo. New sprint roll. Ok. Direi che questa è un'altra roba da bruciare. Contenitore metallico. Un cazzo. Un contenitore metallico. Non c'è mai niente. Mai poco niente. Ah, io sono veramente congelato. Un peschereccio. Sono veramente congelato, ma... Posso farmi un cazzo. Per fortuna che ho un sacco di calorie. E... Direi che qua non c'è più una sega. Andiamo via. Per fortuna che ho trovato sti caseggiati. Sti caseggiati pieni di roba. Altrimenti... Altrimenti con sto cazzo, proprio. Cos'è una pietra? Non niente. Allora, questi qua li ho frugati tutti. Non mi resta che andare a frugare quello dentro al... Quello... Quella specie di baracchino. Questa almeno ha una porta. 18 gradi. Non ce ne sono troppi, ma comunque fa freddo. Quello è un altro, credo. Non è quello in cui sono entrato io. Ok. Allora. Ora mi sto iputermizzando. Niente. Non c'è mai un cazzo. Niente di niente. Posso fare un fuoco? Allora, il fuoco posso farlo. Però poi non posso cucinarci niente, quindi mi sembra un po' un mezzo spreco. Posso rompere il ghiaccio? È che mi ci combino anche se rompo il ghiaccio? Ma guarda come... Guarda quando faccio... Quando uso qualche azione... Quando faccio qualche azione... Quanto mi... Aspetta, posso pescare? Posso pescare anche solo con un filo e un amo. Peschiamo. Mamma mia. Sto morendo. Ho preso un cazzo. Fai tre ore di pesca? Oh! Ho preso... Oh! Ho preso un altro arcobaleno! Prendi! Un altro arcobaleno! Ale! Madonna che pescatore che sono. Anche meglio della vita reale. Oh mio Dio. Co-salmon. Ok. Forse ho pescato. Pertroppo, non sto morendo. No, fermo! Sono morto. E... E che... Ora che sono morto che succede? Non me ne sono accorto! Sono morto di sete di fa e mentre pescavo! Salvo... Save Journal. Cioè, poi... Reset Stats. No, mi vuoi dire che... Aspetta, come si fa? No! E quindi? Cioè, quando muori... Quando muori basta, sei morto! Vabbè, scherzi! Cioè, quando muori sei morto, punto! Funziona così? Non è possibile che quando muori sei morto, punto! E basta! Ci sono rimasto male, ragazzi. Ci sono rimasto malissimo! Stavo pescando per un sacco di pesci! Stavo già pensando di cucinarmeli! E... E niente, ragazzi! Sono veramente morto ed è finito così! Unlucky! Cioè, sono morto pescando! Proprio un totale deficiente! Ero lì che prendevo i pesci e a un certo punto... E sono crepato! Vabbè, ok! Abbiamo fatto una prima immersione in questo gioco. Ovviamente non finisce qui. Cioè, farò un'altra partita e andremo avanti perché... Questo gioco è un mondo vasto, enorme e non ho... Nemmeno... Non abbiamo nemmeno raschiato la punta dell'iceberg. E quindi abbiamo fatto il primo fail, ovviamente. Ovviamente come in tutti i survival si fa il primo fail. Non pensavo sarebbe stato così crudele da... Da proprio... Lasciarmi con le pezze al culo e farmi morire. Proprio mentre stavo pescando! Io amo pescare, poi, nella vita vera. Io amo pescare! Ed essere morto facendo una cosa che amo! Almeno sono morto felice! Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Perché a me piace molto questo gioco. I survival sono veramente un genere che io adoro. E niente, ci vediamo col prossimo episodio di The Lone Dark. Vi ricordo sempre di mettere mi piace, di condividere il video su Facebook per aiutare il canale a crescere e di iscrivervi. A voi basta solo un click, a me fa tanto. Grazie ragazzi, ci vediamo.